Ciao ragazzi, ben tornati anche oggi nel mio canale. Video interessante e in collaborazione con Sandro per la seconda volta. Si tratta di un bel tavolo in rovere con molte cose inserite all'interno. Guardatelo fino alla fine, non fatemi dopo domande che le dico e le vedete perché non risponderò a chi fa domande inutili. Allora, con l'occasione voglio ringraziare chi ha sostenuto il canale e chi si è iscritto per 30 giorni all'assistenza tecnica come costruire un mobile. Noi ci vediamo a fine video, buona visione, ciao! Qui dovrò fare un tavolo che farà 110x110, poi il sotto lo vedremo come sempre in fase di lavorazione. Perché tre tavole? Perché è semplice prendere una tavola, ritagliarla a 110x110 ed è la cosa più semplice. Però io voglio dare l'effetto al piano che siano delle tavole attaccate, proprio delle tavole tipo massiccio come che si facevano una volta. Quindi cosa farò? Di queste tre tavole le taglierò con fuori misura. Poi le incollo e l'effetto sarà proprio il classico tavolo di una volta che veniva fatto con quello che si trovava, tavola larga, una tavoletta stretta. Questa sarà l'ottica di questo tavolo tutto realizzato in rovre. Userò dell'installare e del massiccio. Quindi iniziamo come sempre a rifilare le tavole. Mi sono tagliate tutte le varie fasce, ovviamente con fuori misura. Allora, l'effetto è questo, tavolina, una tavola un po' più grande, più larga, più stretta. Con l'addomino fisserò i tasselli e incollerò tutto il piano. Allora, l'addomino fissi e incollerò tutto il piano. Mi raccomando, quando fate questi lavori non serve stringere tantissimo. Basta che le tavole siano bene unite e quando la colla, vedete che la colla esce così, siete più che sufficienti che il lavoro è stato fatto a regola d'arte. L'effetto è veramente spettacolare. Ora vado a carteggiarlo per bene con due venti e poi iniziamo a fare il riquadro. Adesso andiamo a squadrarlo un po' abbondante perché poi andremo, una volta fatte le aste, a quadrarlo proprio al millimetro. Vado a tagliarmi adesso da questa bella tavola in rovere. La taglio già a metà, la taglio già a metà e dopo mi rifilo, me la squadro bene e vado a fare qui i bordi attorno al tavolo che vi ho detto. La tavola è imbarcata ma è una cosa anche normale, quindi io vado a tagliarla per metà e poi che è più facile da appianare e poi ovviamente si parte a tirare un dritto nelle parti esterne. Questa macchia che vedete di acqua è una cosa normale che si trova tante volte sul legno massello. Ma comunque non ci sono problemi perché è superficiale e dopo con una piallata va via tutto. Speriamo. 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 un tassello con il domino della Festool. Speriamo. 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 Con una fresa come questa. un posto ondata un momento di ammazzo e arrotondo tutto lo spigolo andiamo a inserire le gambe me le sono già preparate questo è un passaggio che non vi ho fatto vedere ma è una cosa semplice se c'è la rete della domanda scrivetemi sotto in descrizione il tavolo è grande non posso farlo traversare da due centimetri questi pezzettini che sto mettendo in questo momento sono quelli che mi completeranno l'appoggio della gamba perché altrimenti ovvio c'è col riquadro c'è un vuoto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e adesso vado a complicarmi vado a complicarmi un attimo la vita perché io un lato dovrò fare una scanalatura dove andrò a inserire un tagliere in acciaio ora a ogni testa del fianco ora a ogni testa del fianco andrò a inserire un testello non lungo ovviamente così un testello con l'addomino ci complichiamo sempre di più la vita su questo tavolo ci devo inserire anche un matterello che ovviamente dato che ci sono i due cassetti che scorrono lo dovrò inserire nel lato qui farò un foro e una guida per tenere questo matterello in faccia dei tasselli da 6 cm tre entreranno nel fianco e tre nelle gambe e quindi allora e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo qui, quello che vi dicevo, questa è una protezione e questo sarà il tagliere in acciaio che andrà infilato qui sotto. E mi sono creato questa canaletta, andrò a incirirla qui e poi ovviamente il cassetto sarà leggermente più basso. E' arrivato il momento di fare il foro per il matterello in faggio e quindi lo farò qui a fianco al cassetto. Questo si tratta di un foro da 4,5. Non lo andrò a fare con una fresa tazza come questa, userò la Festool. Dovrò risiedere una fresa, foro e a mano, libera, piano piano farò il foro da 4,5. Io a mano libera ce la faccio tranquillamente, senza farmi tante dime. E' inutile anche buttare via soldi di una fresa da 4,5 perché è già difficile trovarla, poi ne fai uno e chissà la prossima volta. Quindi sfruttiamo la fresa che ho col cuscinetto, vado giù e facciamo questo foro. Non è stato difficile, basta andare piano e con questa fresa che avete visto io vado giù a candela. Foro tutto, poi appena appena ci giro attorno per farlo proprio preciso. Prova del 9 e voilà. Un po' di lasco c'è. Adesso andrò a tagliarla a metà e sarà il frontalini dei due cassetti in dovre. Allora andrò a tagliativa assegna al paraure, poi a pagm Grazie a tutti. 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 Qui ho messo un'astina con degli scarti di rovere che è quella che mi tiene dritto poi il cassetto. Qui dove ci va il mattarello quando non si userà ho creato questo tappino sempre in rovere e adesso ci vado ad aggiungere un copriforo. Ciao. Non ho fatto altro che mettere una calamita in maniera di estrarlo ogni volta che serve. Ora vado ad inserire il piano e poi si parte con la lucidatura. Bene, allora tavolo finito. facciamo un piccolo giro panoramico di tutto il tavolo e noi poi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao.